Il risultato di l'olio Hai già disposto di abbastanza di olio o di lubricanti? Hai scelto il pump attuale per ottenere la performance maximale? Sono Fabrizio Micheli, il manager Piusi e sono qui per parlare dei nostri due principali pump elettrici per trasferire l'olio, il viscomat Gear e il viscomat Vein. Iniziamo dal viscomat Gear. Questo è un pump attuale elettrico, disponibile per trasferire luidi e oli. Le pump attuale usano l'azione di ruote per trasferire luidi. Il fluido che passano all'interno della pump è inclinato nella cavità dei ruote per trasferire e trasferito all'olio. Qui puoi vedere i ruoli di stile che caratterizzano la nostra pump. Le pump attuale sono compatte e semplici con un numero limitato di partecipanti. Questo permette di essere la scelta preferita in ogni applicazione dove precisione e pressione sono necessari. Il nostro viscomat Gear ha un corpo di caccio, un corpo di caccio, un caccio di caccio e un valvolo integrato, integrato e aggiustabile per trasferire per trasferire la pressione del servizio. Inoltre con la pump, potrete avere questa piazza di luogo connetta a un dispositivo per aiutare la self-primazione. Il motore di protezione termale e una protezione di trasferimento completano le sue funzioni. questa pump funziona perfettamente con luidi di circa 2.000 centi di viscosità e in un range di 12-25 bar. Il risultato è di circa 14 litri per minuto. È disponibile tra due singoli e tre fasi con un inizio e inizio di 1 in. Focusing la nostra attenzione sul secondo pump che abbiamo qui, troviamo il viscomat Vein. La differenza principale che potete vedere è il sistema rotativo. Ci sono veine invece di gears. Un pump di veine rotare è una pump di trasferimento positiva che consiste in veine montati a un rotor che rota dentro di una cavità. Nel pump di veine abbiamo parlato di veine avanzati tecnopolymeri e con un roto cintato. Il corpo è rotato in grado ed include una cavità di veine. Inoltre le pump di veine possono gestire liquidi di viscosità di medium, si escegliano a gestire luidi di luidi di viscosità. Il nostro veine viscomat Vein è disponibile per lubriche di 500 centistock di viscosità con un risultato di flore di 50 litri per minuto a 5-6 bar di pressione. È equipato con un valvo di trasferimento e un inizio e inizio di 1 inch BSP. È disponibile in versione singola e 3-fase. Come potete vedere qui le due pompe sono sturdi e compatte e possono essere usati in diverse applicazioni. l'acqua di viscomat è la soluzione quando necessitano di pressione per trasferire lubriche di viscosità o per trasferire una distanza lunga mentre il veine viscomat Vein è preferito quando necessitano un risultato più alto con fluido di viscosità. Inoltre, la pump di viscomat Vein è disponibile per trasferire oli di plastica. cosa stai aspettando? Si tratta di contatto con il vostro cliente o con Piusi per ottenere il vostro pump di viscomat. E ricordate di credere a Piusi nel cuore del tuo sistema. Grazie per la visione e spero che ci vediamo presto. Ciao!